Gli archeologi che conducono lavori al Tempio di Hatshepsut hanno fatto nuove scoperte in una tomba sotterranea. Il Tempio fu costruito durante il regno del faraone Hatshepsut della XVIII dinastia egizia. Si trova di fronte alla città di Luxor ed è considerato un capolavoro di architettura antica, con le sue tre terrazze che si innalzano nelle scogliere di Deir el-Bahari. Dal 1961, gli sforzi di una spedizione archeologica polacco-egiziana hanno lavorato per conservare il Tempio, con lavori più recenti di un team del Centro di archeologia del Mediterraneo dell'Università di Varsavia. Il team ha scoperto che la tomba conteneva tonnellate di detriti, in cui sono stati trovati diverse centinaia di manufatti che risalgono al Medio Regno, quando fu costruita la tomba, o alla successiva XVIII dinastia nel periodo del Nuovo Regno. Il dottor Patrick Chadzik della missione archeologica, ha riferito che la tomba è stata costruita accanto al Tempio del faraone Mentiuotep II, in cui l'inumato era probabilmente qualcuno strettamente imparentato con il faraone. Il numero e la qualità dei monumenti che abbiamo trovato sono sorprendenti. Includono una statuina di legno, molto probabilmente il proprietario della tomba, con una parrucca in testa, ha detto Chadzik. All'interno del livello dei detriti erano dipinti vasi e ciotole decorati con motivi vegetali, che generalmente risalgono alla diciottesima, oltre a una figura in argilla di una mucca e diverse dozzine di figurine che erano sacrifici, fatti dai fedeli e dai sacerdoti nella cappella soprastante. Il dottor Chadzik crede che gli oggetti siano stati essenzialmente scaricati nella tomba dal personale del Tempio, che avrebbe accettato offerte ma aveva pochissimo spazio nella cappella per conservarli.